Per quanto riguarda le raccolte di denaro da parte di associazioni le più svariate, per esempio quello che in Austria raccoglievano ai tempi della guerra in Jugoslavia, che chiamavano fratello nel bisogno, oppure per la carità, oppure per altri coppi, ci sono tanta gente che dice io non do niente perché tanto chissà dove vanno a finire questi soldi. E tutto è completamente sbagliato avere una disposizione d'animo così. Perché noi diamo questa offerta con la migliore intenzione e quindi compiamo l'opera buona voluta. Se poi questi soldi non fossero distribuiti bene o adeguatamente allo scopo per cui vengono raccolte, non siamo noi i responsabili, devono rispondere coloro che li hanno usati male. Ma se noi pensiamo che questa raccolta dentro di noi la osteggiamo, allora di questo sì dobbiamo rispondere. Grazie. Grazie.